Partiamo dalla riete. Oggi sarete al centro dell'attenzione. Esternerete opinioni estremamente innovative. La buona disposizione d'animo attirerà intorno a voi persone che vi dimostreranno affetto e stima. Toro, nella vostra attività sarete affiancati da colleghi che vi garantiranno efficienza ed efficacia di intenti. Insieme raggiungerete ammirevoli risultati. Se studiate, conquisterete il ritmo e la concentrazione giusta. Gemelli, oggi l'umore non farà i salti di gioia. Vi ritroverete ad agire in una routine che avvertite più stancante del solito. La vostra disponibilità al dialogo è sincera. Cancro, in famiglia dimostrerete, se c'è ancora qualcuno che nutre dei dubbi, quanto siete affidabili e coscienziosi in tutto ciò che fate. Occhio a non farvi ingannare da chi vi propone occasioni tanto mirabolanti quanto irreali. Leone, la vostra dolce metà vi garantisce supporto pratico e psicologico nelle scelte importanti e innovative. Sul lavoro saprete ritagliarvi i giusti spazi di autonomia per esprimere e imprimere il vostro stile. Vergine, le stelle ostili si divertiranno a punzecchiarvi oggi e a farvi vivere una giornata un po' tesa e densa di fatti e circostanze sconclusionate. Bilancia, gli astri di oggi sono favorevoli, non solo saprete prevenire le complicazioni, ma anche scogitare soluzioni idonee ad alcune depressanti questioni. Organizzatevi per ottemperare nei tempi a un obbligo importante, non riducetevi all'ultimo minuto. Scorpione, vivrete una bella storia d'amore senza remore e senza troppa programmazione. Porterete a termine anche un affare sul lavoro, mettendo a punto un progetto dove niente sarà affidato al caso. Sagittario, nel cielo si crea un carosello colorato tutto per voi, avrete il fascino necessario perché gli altri si fidino di voi. Capricorno, il vostro senso del dovere si fa sentire più del necessario. Nella professione non eccedete in straordinari né accelerate di testa vostra i ritmi di produzione. Fate attenzione, potrebbero capitarvi situazioni impreviste e imprevedibili. Acquario, gli astri vi regalano concentrazione e grinta e vi suggeriscono come risolvere una faccenda familiare che vi sta molto a cuore. Pesci, non impelagatevi in affari inconcludenti. Meglio agire con concretezza e lungimiranza. Rivilegiate un cammino graduale ma sicuro. Se siete single, valutate le nuove conoscenze senza fretta, per non rischiare qualche cantonata.